buongiorno amici bentornati nuovamente nella mia cucina oggi andrò a preparare la ricotta fritta è una ricetta semplice veloce è un piatto sfizioso ottimo come antipasto è molto gradito da grandi e piccini vediamo come fare vi ricordo di iscrivervi al mio canale per non perdere i miei video gli ingredienti per questa ricetta sono 600 grammi di ricotta ben sgocciolata meglio del giorno prima farina 00 quanto basta pangrattato quanto basta 2 uova un pizzico di sale taglio la ricotta a fette non troppo sottili dello spessore di circa un centimetro passo ogni fetta prima nella farina facendo attenzione a non romperle poi nell'uovo sbattuto leggermente salato e infine nel pangrattato friggio in una padella con olio di arachidi ben caldo fino a farle dorare tolgo le fette e le adagio su della carta da cucina sorbera la ricotta fritta è pronta per essere servita in tavola risulta dorata e croccata all'esterno morbida all'interno consiglio di gustarla ben calda la ricotta fritta è davvero buona a presto a presto 20